Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 28 gennaio, sono le 9.24 e parliamo di analisi ciclica evoluta su Daxio Fuzzimib. Questa mattina abbiamo aperto con una discesa, ci aspettavamo di finire questa salita e ci fanno un po' disperare in questo periodo. L'importante è regolare il tutto con i swing, perché? Perché se ci sono dei swing che ci dicono che da questo massimo è partito un nuovo T-1, potremmo avere delle difficoltà. Se invece non sono stati violati, le cose possono continuare tranquillamente a succedere e possiamo continuare a gestire il trade. Voi sapete dove passa lo swing per il nuovo T-1 da questo massimo? Ecco, chi me lo chiederà nel gruppo che coordino, nel gruppo sempre più nutrito di trader che coordino, siamo saliti parecchio, avrà questa informazione e potrà eventualmente essere più tranquillo su quello che stiamo facendo. Peraltro, vi ricordo che siamo ancora a rischio di che cosa? Di un raccordo eventuale prima della partenza di che cosa? Di un nuovo T-2 almeno? T-2 almeno. E quanto può durare? Può durare eventualmente, ormai lo sapete, 3 gradi in meno. Non spendo più parole su queste cose, ma ribadisco, posso comprendere. Qui bisogna fare attenzione al death cross, perché ci siamo fermati sotto questa media mobile, non siamo andati sopra. E quindi, ecco, l'ipotesi raccordo, che è quella che comunque c'è sempre alla fine di un ciclo almeno T-1, ma soprattutto T-2 mensile, T-3 trimestrale, eccetera, eccetera. Per cui, ormai è diventato un default, io controllo sempre queste ipotesi immediatamente, appena c'è qualcosa che non mi piace, tipo per dire, questa media mobile che stava andando in Golden Cross e che adesso, boh, ritorna in Death Cross, ecco, o ripartiamo, ritorniamo sopra questi massimi, oppure rischia di avvicinarsi appunto l'ipotesi raccordo. Per cui, cosa facciamo subito? Ecco, immediatamente iniziamo ad andare a contare il tempo fondamentale nell'evoluta, come nella ciclica di base. 35 barre, sul massimo 44. Sappiamo per quante barre possiamo rimanere ancora in discesa per chiudere non soltanto un T-3, ma persino un T-1. E un T-1 viene chiuso con un semplice T-4, ce l'avremo già, la chiusura. Si potrebbe partire a fare un secondo T-1. Peraltro, come avete visto, la per ora, sono le 9.27 e non sono le 10.01, il livello inferiore della cumo ha fermato i prezzi e vedremo di nuovo se questa resistenza rimarrà tale oppure se la supereremo agevolmente con volume o senza volumi, perché se utilizzate la piattaforma di volumetrica di cui vi ho raccontato nelle puntate precedenti e di cui troverete anche qui sotto un link, potrete vedere delle cose che gli altri non possono vedere. D'accordo? I volumi e gli iceberg. Cose interessantissime. Che oltretutto fanno parte da tempo dell'evoluta e che non ci sono né in gun, né nella ciclica. Allora, Mib, stessa identica cosa. Qui la discesa è stata più bassa, è stata fermata dall'incrocio delle medie mobili che stanno andando in Golden Cross senza, per ora, sembra grosse difficoltà. 36 barre su massimo 44, abbiamo superato le 32. Vediamo se voglia di partire qui, non un secondo T-1, ma un secondo T-2, un ciclo a due giorni. E vediamo se si tornerà, perché questo dovrebbe essere il target, sopra questo massimo. Entro quanto tempo? Entro le... Vediamolo subito. 44 barre, quindi entro le 14 di oggi. Ricordatevi, peraltro, che venerdì, c'è la regola del venerdì, non si aprono posizioni, non si aprono posizioni di trade, si chiudono soltanto, eventualmente, nel pomeriggio. Perché? Perché iniziano a esserci dei movimenti fatti dai fondi relativi a un adeguamento verso la VWAP e quindi se questi concetti volumetrici non vi sono chiari, è proprio meglio lasciar perdere l'apertura di trade. A meno che non ci sia un qualche cosa di incredibile, un trade eccezionale che possa saltare fuori, ma attenzione, rimanere investiti nel weekend, può essere estremamente rischioso. Anche in questo caso, come dicevamo, chiuso un mensile, sembra stia partendo un nuovo mensile. Non mi ricordo se mi è stato chiesto dove passa lo swing corretto per vedere determinate cose. Io so che questo, per ora, non è stato violato. E se ci tornassimo invece sopra, avremmo una buona possibilità che questo non sia un raccordo, ma che sia già direttamente il nuovo mensile che possa spingere su. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, uno splendido fine settimana. Godiamoci i nostri gain. È giusto che si spenda in formazione, in libri, in approfondimenti, ma soprattutto che ci si goda anche un po' la vita quando i mercati sono chiusi. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.